Buongiorno e ben ritrovati in una nuova edizione di Tg Master X. Apriamo con la pagina politica. Screzzi diplomatici o campagna elettorale che sia, non si placa la tensione tra Roma e Parigi dopo le polemiche delle ultime settimane che hanno portato al richiamo dell'ambasciatore di Francia in Italia. La decisione è stata presa a seguito delle dichiarazioni oltraggiose del vice premier Luigi Di Maio, ha comunicato l'Eliseo durante il suo incontro con i leader dei gilet gialli. E si è espresso in proposito il portavoce dell'esecutivo francese Benjamin Griveaux, che ha definito il richiamo non permanente ma utile a mandare un messaggio. Il comportamento dell'Italia, aggiunge Griveaux, viola il rispetto che deve esistere tra governi democraticamente eletti. Uno strappo simile nei rapporti diplomatici tra i due paesi risale al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Ora passiamo alla pagina economica con numeri che arrivano dall'Istat e che penalizzano ancora l'Italia. C'è il rischio di serie difficoltà economiche e questo l'allarme dell'istituto che mette in guardia l'Italia. Su base annua infatti la produzione industriale è calata del 5,5%, la diminuzione tendenziale più elevata dal dicembre 2012, mentre a dicembre si registra un ribasso dello 0,8% rispetto al mese precedente. Si tratta della quarta contrazione consecutiva, a risentirne maggiormente la produzione delle auto, che scende quest'anno del 16,6%, a seguire con cadute rilevanti anche l'industria del legno, della carta e della stampa. Non va tanto meglio il tasso di disoccupazione, nonostante negli ultimi 5 anni questo sia diminuito di 1,5 punti percentuali, resta ancora lontano dal minimo storico del 2007. Ora invece passiamo alla cronaca con un caso degli ultimi giorni. Ci prendiamo tutta la piazza, è nostra, urle e risate dopo gli spari a Manuel, la giovane promessa del nuoto ferita fuori da un pub a Roma. A mettere gli inquirenti sulle tracce dei due colpevoli, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, sarebbe stata la testimonianza di una donna che avrebbe raccontato di aver sentito dei colpi di pistola e uno scooter fuggire ad alta velocità tra le risa e gli schiamazzi. Oltre alle testimonianze, ad inchiodare i due ci sarebbero le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore automatico che riprendono gli attimi dell'agguato teso al giovane Manuel. Intanto si cercano le persone che hanno dato rifugio ai due colpevoli. Potrebbe trattarsi di un'organizzazione criminale. I magistrati non escludono l'aggravante mafiosa. E ora continuiamo con la cronaca, con un caso che probabilmente potrebbe chiudersi definitivamente. Anna Maria Franzoni è una donna libera, accusata di aver ucciso nel 2002 a Cogni il figlio di tre anni, Samuele. La donna che vedete nelle immagini è stata condannata nel 2007 a 16 anni di carcere. Già nel 2014 era stata scarcerata dopo una perizia psichiatrica e dal 2015 era ai domiciliari. Ora ha scontato l'intera pena con mesi di anticipo grazie a permessi premio e buona condotta. Sono felice ma vorrei che tutti capissero che sono innocente, queste le prime parole che la Franzoni ha rivolto ai familiari. La notizia ci lascia indifferenti, abbiamo lasciato alle spalle questa storia, ha commentato il sindaco di Cogni e Franco Allera. Per noi è sempre stata innocente, dicono invece gli abitanti di Monte Cauto, Vallese, il borgo bolognese dove abita la donna. Ora chiudiamo con la notizia che riguarda invece l'uomo, forse tra gli uomini più potenti al mondo. Un tabloid vicino a Trump minaccia di pubblicare delle mie foto ose, il Tycoon mi considera un nemico. Queste le parole di Jeff Bezos, numero uno di Amazon, che ha denunciato per estorsione il National Enquirer. Il CEO e fondatore della Internet Company ha infatti accusato il tabloid scandalistico dopo la minaccia di diffusione di foto personali che si sarebbero scambiati di sms, lui e la sua fidanzata Lauren Sanchez. Il National Enquirer è di proprietà di David Pecker, alleato e amico di vecchia data del presidente americano Donald Trump. Volevano che facessi una dichiarazione falsa alla stampa ma non ho ceduto al ricatto, ha dichiarato Bezos sul suo blog. Questa minaccia è arrivata dopo le inchieste su Trump del Washington Post, di cui è azionista proprio il numero uno di Amazon. Ebbene questa era l'ultima notizia da TG Master X, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Un saluto da Alessandro Di Stefano e dall'intera redazione. Appuntamento a settimana prossima.